Ma sì, naturalmente io penso che l'effetto principale della misura sia quella di spingere le persone a farlo, non tanto a mettere in piedi un sistema di controlli così radicali e così ramificato. Naturalmente, personalmente penso che anche le persone a cui arrivano una colfa, una badante in casa, siano interessate che quella persona sia nelle condizioni sanitarie da poter fronteggiare il virus. Io eviterei il dibattito ideologico, credo che Cremaschi in questo abbia detto una cosa giusta. Per me il Green Pass è uno strumento, noi fino a un po' di mesi fa avevamo uno strumento molto gravoso per tutti che era il lockdown. Per fortuna questo possiamo superare la fase del lockdown, abbiamo lo strumento per superare un altro pezzo di questa emergenza, che riguarda il fatto di, nelle situazioni in cui si entra in contatto con altri, cerchiamo di avere uno strumento che garantisce, da quello che ci dicono i medici e gli scienziati, garantisce una dose di sicurezza sulla gravità della situazione. Tutti a questo sono discussioni un po' assurde, il sesso degli angeli, voglio un pochino arrivare a...